Bene, inizia un altro livello di... Ho sbagliato controller Un altro livello di... Breve è la ricerca di spirito danzante Qui adesso... Se si carica... Si carica... Perfetto Stai caricando a quanto vedo Muoviti Ok, qui dobbiamo trovare la... Il primo pezzo di pietra Per poter distruggere Wendicot Ok, stiamo attenti a queste... Già stare attenti a questi spuntoni Se no ci fanno ma... No, 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 no! Fai su... Perfetto Salta Perfetto Muoviti Muoviti Salta, vuol cadere! Perfetto No, sono morto come un imbecille! Calma Perché è la fretta che mi frega Calma Perfetto Io sono... Io sono calmo Perfetto Ok Ok Aia Ho fatto la figuraccia come sempre O che sa... O che sa... Qui ha salvato Per evitare figuracce Ok, è che... Eh, ma... Dov'è che devo andare? Ecco dove che... Ecco dove che... Non male che avevo salvato... Che c'era il salvataggio Sennò mi sarei arrabbiato Non poco Ecco E adesso Ah, capito Aia Perché per... Perché sa qual motivo Se... Aia Se tocco quelle pietre Mi faccio male Eeeh Anche con... Anche se... Aia Anche se il tocco Colascia Un altro potere Eh sì Un altro portale Un altro potere Un altro portale Un altro portale Si è cagato sotto Davvero niente male? Niente male? Questa è opera Del più grande Intagliatore Di totem Del mondo Io sono Oralook Che buffone Figlio di spirito danzante Il più grande sciamano Mai esistito E mia madre Era una puzzola Figlio di spirito danzante Beh Ma è vero E allora provalo Se riesci a restare In filico Ci valto Tem Allora ti crederò Ok Facile Ma che no Ok Ok Non dirmi che potevo scendere Ah Fantastico In breve Non credo di poterti aiutare Ma allora perché mi contatti Spaccati Ah Ah La Luca si è prestata Infendita Forse devo questo fare Per Pezzi Sopra Inizio Totem Ma pure Cercare Annalato Nel vintorno Ok No Sono caduto Come un Idiota Al cubo Ah no Adesso mi ricordo No Si colcavo Che me lo ricordavo Aspetta Mi ho fatto qualcosa Che volevo Allora Lo ricordo Molto Ok Forse Si andava Da questa parte Ahia Vabbè Non me ne frega Niente Si può anche vivere Senza trovando Senza trovare Quella traccia Questo vulcano Era il punto di ritrovo Dell'ordine Del lupo La più grande Congregazione Di sciamani Della storia Del mondo Ah Interessante Questi antichi Manche Che no Ma L'ordine È ormai Estinto E i suoi Progetti Dimenticati Un oscuro Sciamano Ha maledetto Questo luogo Rubando un frammento Dell'amuleto E avvolgendolo In uno scudo Magico Ma Rompipalle Molto bene Trovate un totem Secreto Questi totem Lo sappiamo Ste cose Se potessi T'Ucciderei Perché Sto maledetto Mi ha Nascosto Il coso Ora Eh no Ah ah Se è esploso Non mi è colpito Forse Alcrente Alcuna Te aiuterà Alcuna Cerca Alcuna Alcuna Si porta Amata Ok Aquila Perfetto Imita Eccomi Il figlio Di spirito Danzante Forse Tu sei Quello Che potrà Finalmente Spezzare La maledizione Di questo luogo Il male Si annida Nel ventre Nel ventre Nel ventre Di questo Vulcano Da tempo Volevo Darlo A qualcuno Cos'è Un paccio Sua poca Un tomahawk Boomerang Torna indietro Dopo essere Stato lanciato Un tomahawk Boomerang Grandioso Puoi lanciare Il tomahawk Mentre ti arrampichi E distruggere Gli sbarramenti Di lava Sul tuo cammino Ecco Finalmente Trova l'amuleto E liberaci Dalla maledizione Ma che ma Trova l'amuleto Sì Quattro piume Adesso sì Che sembro Un guerriero Super 6 4 Ok Questa Con questa Ascia Possiamo Fare Praticamente Salta Praticamente Guardate bene Quest'Ascia Perché Rimarrà Perché Ce l'avrò Per poco Tempo Mi sto prendendo Un bicchiere D'acqua Salta Ho detto Salta Non ho Se commenti Negativi Che Riceverò Perfetto Stavolta Ce l'ho Fata Perfetto Dopo Varie Rotture Di pale Ce l'ho Fata Grazie Ok Oh cacchio Ma guarda Quelle carone Mi hanno attaccato Agli spalle Hai capito Avete capito I furboni Però Non ho mai Che sono morti Se le Le Se lo meritava Ai A questo Mi vogliava Stuprare Accidenti C'è un altro Un po' C'è un altro Ha ha Ok Sono un po' Tardi Questi Tizie Questi tizie Ok Occhia aperto Perfetto Aia Però mi sa che lo so Un po' Anch'io Ok Aia Ok Perfetto Vita Ok Ok Ah ah Eh no Aia Quello che mi lancia le palle di fuoco Oh cacchio Scordatelo Perfetto 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 Aia Aia Porti un colpo Anzi no In due mi sa Ah no 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 Sono caduto Come un idiota Perfetto Ah Super Saiyan cacchio cacchio no vabbè ah meno male pensavo che dovevo cadere di nuovo non ci pensare neanche ok sto ammazzando un po' tutti ok oh cacchio ahahah hai capito quelli quelli fanno i kamikaze ci vogliono uccidere ah pivello più bello più bello senza hai usato scottarmi di dietro mi hai scottato anche un po' il pene aia aia mi ha fatto male di nuovo più che altro le ho fama alla brave a perfetto l'ho ucciso sei levato dalle palle oddio aaaah io sono un uccello di tuono il signore delle tempeste mi sembri proprio tagliato per la parte ma un tempo ero guardiano di queste terre prima che calasse l'ascolta la strada che stai cercando attraversa il vento del vulcano ma a tempo giovane guerriero il male è ovunque nell'aria nel mio pene nel mio pene potente un incantesimo di tuono ed è messa hai detto tu tuono ma ma perché tutte le pietre fanno così questa è questa è stata tutta l'esercizio della potente chiamare il potere del tuo amore l'ampo ok capito aaaah via ora ora porta l'ora furia dell'ampo porta l'ora a l'orco dentro il cerchio il primo quadrato per evocare l'ampo bisogna stare attenti l'ampo finale oh cacchio ma quel pietre è aia 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 miautizia avvia non voglio parlare con te ora voglio parlare con te sei dove ti afficcola ascia super il sedere anche che mi sa che tu non ce l'hai ho detto ecco ti è piaciuto mi sa no se non saremo benissimo vio be vio be vio becato asima che colpiscilo ti prego oh cacchio non è morto e questo non è molto positivo no no sono morto no no sono morto ok ok perfetto ti ho fatto male oh cacchio ha capito che sto facendo sul serio bellissimo bellissimo l'ho colpito insieme ai suoi alleati adesso i miei alleati colpiscilo muori ecco quanti colpi ti bastano per morire per la cronaca muori perfetto perfetto no non è morto mi sa che adesso si fa poco perfetto perfetto no non è morto hai rotto anche le palle non ti sopporto più sei troppo complicato non è morto manca poca vita per crepare quindi muori perfetto non sto per cadere comunque salva il potere del lampo quindi finisce l'altro livello di brave e alla ricerca di spirito danzante alla prossima